Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con un prodotto di Manfrotto, parliamo del 755 Como X-Ray 3-Modena 8-4-5. Parliamo di un sistema dotato di supporto tripode, come penso sia facilmente intendibile dall'immagine che potete facilmente ammirare dalla parte anteriore del box, sul fianco come vedete Manfrotto in bella evidenza. Il kit in questione è appunto un tripode dotato di testa adatta in pratica a soluzioni foto-video. Come vedete il packaging è discretamente voluminoso, procediamo adesso all'apertura. Vedete come viene appunto sigillato per bene, all'interno quindi trovate il vostro sistema treppiede, vediamo di fare tempo e al minimo spazio, così da raggiungere agevolmente istruzioni su come si gestisce il supporto tripode e all'interno della scatola non c'è altro. Per quanto riguarda il supporto potete ammirare appunto come si è interamente ricoperto in cellophane, come vedete appunto è già compattato in fabbrica, quindi vi arriva appunto nelle dimensioni più comparte possibile. vediamo quindi cose contenute all'interno di questo nylon. Come possiamo apprezzare abbiamo quindi la nostra testa, come vedete ci sono già i sistemi di messa a bolla. Ad ogni modo l'unboxing in questo caso è semplice, il prodotto arriva già montato, quindi non ha necessità di particolari attenzioni da questo punto di vista, siate ovviamente accorti e delicati nel suo spacchettamento proprio perché appunto il prodotto è particolarmente raffinato, sarà la nostra premura a vedere come si comporta, lo metteremo quindi in funzione e per questo vi invito a seguirci attraverso il sito web formovize.info, vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, così da rimanere facilmente e tempestivamente aggiornati sui prossimi focus che realizzeremo su Manfrotto. La demo è conclusa, a breve galleria fotografica, poi andremo ad approfondire il funzionamento con qualche video e foto appunto in modalità operativa e la recensione conclusiva. Lo spacchettamento termina così, vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo online, un saluto presto da Giuseppe Radozini.